Attimi di paura ieri pomeriggio a Peschebassa. Poco prima delle 18 nel locale lavanderia di un'abitazione non lontana dalla sede universitaria è divampato un violento incendio. Il rogo probabilmente innescato da un guasto ad un elettrodomestico. In pochi minuti le fiamme si sono propagate avvolgendo quasi ogni cosa. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco dalla vicina Esernia con due autobotti e uno fuoristrada equipaggiato con il modulo antincendio ha scongiurato danni strutturali all'edificio. Dai caschi rossi messa in sicurezza una caldaia all'interno del locale e subito dopo il bombolone del GPL installato all'esterno. Una vicina riferisce che nella casa al momento dell'incidente non ci fosse nessuno e di essere stata proprio lei ad allertare i soccorsi dopo aver sentito un boato e un odore acre di bruciato. In realtà dal comunicato ufficiale dei vigili del fuoco si apprende che disattivate le utenze elettriche del gas sono stati gli stessi proprietari dell'immobile a dare per primi l'allarme. In effetti il centralino dei vigili del fuoco nei primissimi istanti del sinistro ha raccolto numerose segnalazioni relative ad una forte esplosione. Dagli accertamenti effettuati dagli operatori giunti sul posto ha appurato che la causa del boato è da imputare allo scoppio di un piccolo contenitore all'interno del locale andato a fuoco. Dunque danni contenuti e soprattutto nessun ferito. Come si dice in questi casi sarebbe potuto andare decisamente peggio. Grazie a tutti.